Proseguono le iniziative solidali soprattutto durante il periodo di festa all'interno della parrocchia Santa Croce. In queste settimane infatti sono state organizzate anche altre attività come ad esempio da parte di un gruppo parrocchiale la serata danzante per trascorrere del tempo in compagnia ballando o giocando a tombola. Sabato 7 gennaio 2017 invece un gruppo di scout di Enna insieme ad un gruppo di scout nisseni organizza una cena per i più bisognosi. Circa 50 infatti le persone che si ritroveranno il giorno dopo l'epifania nei locali della parrocchia che ha subito accolto l'iniziativa. È un'iniziativa che hanno preso gli scout di Enna che è in gemellaggio con gli scout di Caltanissetta e stanno pensando di trascorrere alcuni giorni qui a Caltanissetta e nel frattempo sabato organizzano una cena per le persone più bisognose della nostra parrocchia. E questa è un'iniziativa molto bella perché parte da loro in questo spirito di servizio nel clima del Natale hanno deciso di mettersi al servizio delle persone più bisognose. Abbiamo già organizzato altre cose con queste persone, un momento di festa, di ballo e di gioia oltre altri decenni che abbiamo già fatto prima di Natale e questo ci aiuta a creare armonia. Si dice che il cristiano è un uomo di festa. Mentre ci prepariamo alla festa eterna ecco facciamo tante feste per essere più uniti, più in allegria, più nella sanità e dimenticare un po' i problemi che ci assiliano quotidianamente. Io ne approfitto per voler ringraziare tutte quelle persone che hanno portato un contributo economico oppure hanno portato del cibo secondo l'iniziativa che abbiamo avuto dal 24 al 26 e devo dire che c'è stato un certo riscontro e di questo ne sono contento. Si vede che il cuore dell'uomo nei bisogni umani ecco si allarga e rende partecipi anche le altre persone. Il messaggio è questo e camminiamo insieme. Non lasciamo nessuno da solo ma nel clima di festa del reciproco aiuto ecco facciamo sì che il nostro cuore si allarghi di modo che possa entrare ogni persona bisognosa perché in Cristo siamo tutti fratelli.